Buongiorno signori, notizia flash, finalmente l'Inps sta per procedere al pagamento del tanto atteso bonus Renzi per i percettori di Naspi. Io sono Mr. Lul, parliamo di pagamento del bonus Renzi a febbraio 2020. Il pagamento del bonus IRPEF sulla Naspi lo sappiamo varia di mese in mese e anche quest'anno, tra l'altro come nel 2019, a gennaio non è stato effettuato nessun pagamento. Finalmente però sappiamo che gli accrediti partiranno da giovedì 20 febbraio 2020 in avanti, infatti vi ricordo che la data può variare da persona a persona. Per sapere la data esatta in cui riceverete il vostro pagamento, beh, è necessario andare sul sito dell'Inps, accedere con le proprie credenziali al fascicolo previdenziale del cittadino, cliccare su prestazioni e pagamenti e cercare la voce Credito di L66 2014. Bene signori, spero che questo breve video possa esservi utile e noi come al solito invece ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.